Esimio dottor professor Orge, 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 omonimo del Papa attuale. Ci sono tanti corche. C'è anche il grande corche Luis Borghese, che non ha avuto il premio nobile semplicemente perché non era nato da certi lombi. Ha anche l'altro incommensurabile, Orge, che risente sempre, e qui è nomen omen, dicevano a suo tempo, e questo simbolismo del San Giorgio, che è insito ovviamente in questo nome, è un simbolismo che ci induce a prendere le armi contro il drago, quindi evidentemente anche la denominazione, anche il nome, come dicevano gli antichi, ha un significato esistenziale. No, non solo, posso dare una mia interpretazione. Quando uno ha un nome, si identifica con quel nome e va a verificare chi altro l'ha portato quel nome e quindi diventa uno scambio di riflesso dall'azione compiuta da chi deteneva quel nome nel passato, e lo trasfonde in te. Anche io, come Orazio, ci ho sempre avuto questo episodio dei tre Orazzi. No, abbiamo Orazio Coclite. A me piace quello dei tre Orazzi, che fra l'altro è storico, quello dei tre Orazzi è anche un fatto storico e quindi ha una sua valenza morale importante, anche intellettuale. Certo, allora veniamo a noi. Oggi noi proseguiamo su un discorso molto importante che noi a suo tempo avevamo già iniziato, in difesa della terapia di Bella, ma ci teniamo a sottolineare che non è che noi siamo dei fanatici della terapia di Bella. Noi approfittiamo di una situazione in cui si trova l'Italia che ha condannato alla non utilizzazione non solo di Bella, ma anche altri studiosi alternativi, e dopo diremo che cosa ho sentito di ignobile, di vergognoso ieri sera al TG5, un vomito, un trottuglio a Simoncini e adesso spiegheremo perché. Ma in ogni caso tutte queste cose per dire a che livello di abbruttimento culturale e ideologico e soprattutto di passività culturale siamo arrivati. Allora, perché dico queste cose? Dico queste cose perché l'innovazione in una società viva deve essere facilitata comunque. Deve essere uno dei principi cardinei della società viva. Non le pressa. Deve essere comunque. Poi una volta che, io ho sempre sostenuto, essendo un uomo di scienza, che l'uomo di scienza non deve rifiutare a priori una certa situazione perché quella certa situazione... La deve mettere in dubbio, la deve verificare, analizzare e poi eventualmente... E solo se ha dei riscontri negativi la deve scartare. E l'abbiamo sempre detto. Perché nel mondo si continua a parlare bene di uno come Galileo Galilei? Perché ha avuto ragione. Ma ha avuto ragione quando? Quando si è messo, nel caso particolare, si è messo d'accordo con gli inquisitori. Ma in ogni caso, nel tempo, si è dimostrato che aveva ragione. Allora, ripartiamo di lì e ripartiamo... Vabbè, c'aveva ragione, già in epoca greca c'avevano ragione. No, io sto parlando di un caso particolare, di uno scontro particolare tra un innovatore che si è trovato tutti contro. Potrei parlare di Giordano Bruno. Sempre, tutti gli innovatori hanno sempre trovato l'ostacolo. Dal 1900 in poi, cioè dal 1900 in poi, sono usciti fuori tutti i libri di Giordano Bruno che, vedi caso, erano stati inguattati, per fortuna. Incredibilmente, però, solo uno è stato agevolato, che, guarda caso, aveva un cognome molto particolare. E chi era questo? Ebbè, insomma, tu lo sai. No, non è tanti. Quello che ha rubato a... Ah, vabbè, ma quello è un altro discorso, quello che è stato agevolato. E lì è stato pompato. Pompato. Tant'è vero che quello che, invece... Depretto. Aveva elaborato. Quello che aveva elaborato la teoria della relatività, presentata ufficialmente... All'ufficio brevetti, per la miseria. Un congresso internazionale scientifico, poi, in un certo giorno del 1921, è stato pure assassinato. E dicono, per gelosia. Vabbè, andiamo avanti. Dovremo entrare in un altro merito. Siamo sempre pronti a entrare in tutti questi meriti, per cui queste cose le diremo. Ma partiamo da quello che ho sentito di schifoso, di vergognoso a Tg5. Allora, ieri a Tg5 hanno attaccato Tudio Simoncini, perché ha fatto morire un ragazzo. Allora, un ragazzo terminale, che il genitore che in televisione ha intervistato, si lamentava, eccetera, eccetera, è un ragazzo terminale che non poteva che terminare la sua sofferenza. Allora, io sono convinto, e invece, siccome questo ragazzo è morto, la colpa è di Tudio Simoncini, che gli ha fatto delle iniezioni di bicarbonato. Allora, come uno può tollerare e pensare che una persona in fin di vita possa reagire pesantemente a un attacco tumorale che ha coinvolto tutto l'organismo, proprio perché, grazie alla chemio che gli avranno fatte in maniera vergognosa, quella chemio ha distrutto tutte le difese immunitarie, perché la prima cosa che la chemio distrugge sono le difese immunitarie. Come può pensare uno che la morte sia provocata dal bicarbonato? Allora, basterebbe un minimo di logica, ma questa logica non c'è, c'è stata questa accusa, questo genitore che disperato era andato dappertutto e poi alla fine si è recato presso Tudio Simoncini, questo genitore, il ragazzo è morto subito dopo, ha fatto male Tudio Simoncini ad accogliere il ragazzo, perché questi sono dei tranelli intrinseci, io non l'avrei mai accolto, tant'è vero che il genitore si lamentava del comportamento del figlio del professor Di Bella, il quale dopo poco tempo gli ha negato qualsiasi attività, la terapia di Bella consiste nel potenziare le difese immunitarie, se le difese immunitarie sono già distrutte non puoi potenziare un cavolo di nulla, allora ci vuole un minimo di intelligenza a capirlo, siccome io, come avevo detto nelle altre interviste, quando ero collaboratore della prestigiosa rivista La Coscienza del Medico, che usciva ogni 10 giorni e aveva una tiratura di 55 mila copie, ripeto, 55 mila copie di abbonati o di altri medici a cui noi la mandevamo in visione, quindi era letta comunque da 55 mila medici. Io andai a intervistare all'epoca due personaggi molto importanti, uno era il dottor Aldo Vieri, ne abbiamo già parlato nell'altra intervista, e uno è stato il famoso veterinario di Agropoli, ma non entro nel merito perché dovrei… Quello del siero delle capre mi pare. Esattamente, dovrei entrare nel merito, una cosa piuttosto lunga e inutile perché adesso devo dire altre cose. Allora, Aldo Vieri, dopo il successo che ha avuto perché gli fecero un'intervista su Paese Sera e ci fu una bareonda in tutta Italia che tutti andavano lì per farci visitare. Io ricordo che c'era una fila a Via Alessandria a Roma che prendeva tutta Via Alessandria. Chi conosce Via Alessandria, siccome io lo vedevo, l'incontravo sia per ragione di lavoro che per amicizia, lui mi ha dato tutta la documentazione, io ce l'ho, ma non l'ho portata, non c'è ragione che lo fa. Quello che voglio dire qui è che per fargli fare una sperimentazione, gli fecero fare una sperimentazione su della gente che stava per morire, erano tutti morituri, dopodiché sono morti rostesi, vedi che è la terapia, ma la terapia che faceva il dottor Aldo Vieri era una terapia ben nota all'epoca, che si dava con farmaci ben riconosciuti e che la sua caratteristica era che lui diluiva questa sostanza in maniera tale da poterla dare gocce dopo goccia giorno dopo giorno e tu prendi uno che tre giorni dopo sarebbe ispirato perché distrutto dalla chemia o da altre terapie completamente idiote e gli dai quella terapia che non può istituzionalmente funzionare. La stessa cosa si deve dire di Bella, perché pochi sanno quanti miliardi è costata la sperimentazione di Bella, hanno sperimentato 70 miliardi per fare una sperimentazione con dei prodotti che poi è stato dimostrato a essere scaduti, perché i prodotti di Bella che di Bella consiglia di utilizzare in una fleboclisi continua, goccia a goccia tutte le notti, devono essere compilati da poco e non gliele puoi dare compilati da molto. Insomma, 70 miliardi rubati agli italiani per assassinare gli italiani. Allora, un minimo di cultura in questo ambiente medico bra, fradicio… 70 miliardi di lire, eh? Sì, beh, certo, ti immagino, andava per aria completamente l'economia nazionale. Allora, signori, noi qui, lo ripetiamo, abbiamo talmente tanta roba e tanta roba da mettere sul fuoco, da tanta carne da mettere sul fuoco, noi diremo solo poche cose. Questa è la rivista del Ministero della Sanità del Vaticano, quella a cui, bontà sua, il noto Duilio Poggiolini, soprannominato P. Duilio per la sua nota appartenenza alla P2, devolveva moltissime dei contributi che le industrie farmaceutiche gli passavano a ciò che lui falsificasse la documentazione dei farmaci. E se vuoi la soluzione? Attaccati al cordone. Attaccati al cordone. Allora, quindi io qui faccio alcune note, sì, questo l'ho scritto, in modo tale che devo dire l'ultima cosa, questo atteggiamento di colpire inesorabilmente le persone per il semplice fatto che sono innovative, è legato anche al fatto all'atteggiamento di subire passivamente, dal punto di vista intellettuale e culturale, tutto ciò che è consueto. Allora, c'è un caso particolare, il caso dello Zarevich, il figlio dello Zar, il quale era malato di emofilia. Di Alessandro VI? Il caso classico. L'ultimo figlio, quello che è stato ammazzato insieme al padre, alla madre e alle sorelle. Tutta la famiglia? Esattamente, che non era Alessandro VI. Alessandro III. No, non era Alessandro III. Alessandro VI è quello che fu assassinato perché aveva tentato di modernizzare l'economia russa, cosa che loro signori non volevano, perché dovevano instaurare il bolshevismo. E come si chiama? Sassputin adesso. Sì, arriviamo a Sassputin. Ma come si chiamava lo Zar? Nicola. Nicola II. Nicola II, bravissimo. Esatto. Allora, cosa è successo? A un certo punto questo Rasputin Santone viene chiamato per colare il bambino. Siccome il bambino gli davano l'aspirina, allora, tra parentesi è quello che volevo dire. Tutti questi paludati professoroni, noi li vai a vedere, tutti questi, la grande scuola medica di Vienna, la grande scuola medica di Berlino, la grande scuola medica di qua e di là, vedi tutti questi con questo, tutti, erano talmente bravi che siccome c'era l'unico prodotto noto che era reclamizzato l'aspirina e gli davano l'aspirina. Non ci fosse uno che avesse detto, visto che la sanguinazione del bambino era aumentata, avesse detto… L'aspirina è un diluente del sangue. Ma infatti, è un antiaggregante piacere. Però serve per evitare… Per prevenire gli infarti, metà dell'umanità oggi va avanti a cardioaspirina. Aspirinina. No, non è, cardioaspirina, è un'altra specialità che c'è proprio un dosaggio giusto che si è visto sperimentalmente essere un preventivo dell'ictus e degli infarti. Si è visto anche che l'uso costante della cardioaspirina riduce enormemente i tumori dell'intestino, cosa verissima, cosa sperimentale, vista. Ho detto questo, cosa è successo? Rasputin, da buon contadinaccio, la prima cosa che ha detto è levategli l'aspirina, che è questa porcata… Il pragmatismo. E allora il bambino ha smesso di sanguinare, miracolo, miracolo. Allora vedete il meccanismo che si va a instaurare nella società… Che personaggio, Rasputin, guarda. No, a parte quello… Incredibile. Ma questi gridano al miracolo, ci fosse uno che avesse detto, che avesse fatto una conseguenzialità di carattere elementare e logico. Gli dava l'aspirina, sanguinava. Gli ha tolto l'aspirina, non sanguina più perché devi chiamare il miracolo. Sono stato io stronzo, medico cretino, asservito ai poteri ideologici che comandavano in quel momento che gli ho prescritto l'aspirina. Avrei potuto prescrivergli un'altra cosa. E allora di qui partiamo per dire attenzione, voi accusate una persona come il professor Di Bell di essere un innovatore, ma vediamo chi siete voi. Allora per vedere queste cose ci vuole poco. Questo è un testo fondamentale che è Dizionario di morale professionale per i medici. Luigi Scremin, dell'Università di Siena, quinta edizione. Qui c'è una frase che mi va di leggere perché cretini che non siete altro, ve la pigliate con Di Vella. Ma volete andare a ragionare sulle cose? O siete semplicemente totalmente asserviti? Guardate, io preferisco il corrotto all'asservito mentale. Perché almeno il corrotto, e io c'ho una lunga esperienza di queste cose, per cui sapevo che i medici più corrotti sono quelli che prescrivevano all'epoca farmaci per cui erano pagati, però poi assieme a quelli prescrivevano il farmacolo giusto, quello buono, per cui la ricetta era doppia, ma il paziente si salvava. Questa è una persona corrotta, intelligente. Gli altri sono solo cretini. Non bisogna mai mettersi al livello dei cretini, perché loro ti battono con l'esperienza. Esattamente. Uno dei più grandi medici che ho avuto l'onore di conoscere, perché nella mia vita professionale ho conosciuto i grandi medici del Novecento. Se uno mi chiede perché poi glielo dirò nella mia vita professionale. Il più grande sicuramente è stato il professor Pende, Nicola Pende. Poi Condorelli, grande clinico medico. E poi il famosissimo Cesare Frugoni. E io l'ho conosciuto quando ancora visitava, ero in là con l'età, un signore molto elegante, molto fine, che visitava alla clinica Sanatrix di Roma, a Via di Tresone. Riportiamo Deontologia Generale e Segreto Professionale. Riportiamo col consenso dell'autore una lezione di Cesare Frugoni. È stato pubblicato nella rivista Policlinico del 1938, numero 47. Dice Cesare Frugoni, nessuno mai insegna Deontologia Professionale. Che cosa uno deve dire di più? Tu lauri, adesso poi siamo a un livello tale, di fronte ai laureati in medicina di oggi, il medico scalzo cinese dell'epoca di Mao era un pozzo di scienze. Vi voglio dire una cosa che pochissimi sanno. Se ti vuoi iscrivere alla facoltà di medicina in Olanda, devi prima fare un triennio di bioscienze. Un triennio. Devi conoscere tutto. Poi puoi fare il medico. Ma se non hai in mano tutto quello che devi conoscere, che ti permette di conoscere ovviamente anche i farmaci, i meccanismi, ti intendeci prima di tutto di entrare nell'ordine di idee che un farmaco agisce perché ha un meccanismo d'azione. E che questo meccanismo d'azione non è soltanto un meccanismo di quel fine che l'industria ti dice perché vuole, perché sa che quello è un mercato specifico. Se un prodotto che è stato creato per la caduta dei capelli, l'industria vede che invece serve un prodotto contro i calli dei piedi, quel prodotto l'industria te lo vende per i calli dei piedi e nessuno va a vedere se e perché e per come quel prodotto lì ha cambiato indicazione. Laddove la letteratura ce ne è quante ne vuoi? Ecco, ad esempio, questo è un testo fondamentale che illustreremo dopo, che dice esattamente questo, un testo che è stato fatto sparire. A me è stato dato dall'autore, mi ha detto guarda, me l'hanno fatto sparire, non riesco a trovarlo più, è sparito dal deposito. Capito? Ma l'autore non è un Di Bella, non era un Di Bella. I due autori non erano un Di Bella che poteva essere anche una persona extra, fuori dal giro, anche se era un professore universitario. Questo qui erano uno, gli autori sono, uno era un direttore generale, istituto superiore della sanità e l'altro era un primario del regina Elena, quindi non è che, capito? Allora poi diremo, questi qui hanno fatto uno studio, durato più di un decennio, in cui hanno fatto vedere tutti i farmaci che provocano il tumore, ma dico ci fosse stato un minimo di coscienza, no? Sarebbe stato quello di prenderlo e distribuirlo dappertutto. Prima di prescrivere la medicina, voglio andare a vedere se è scritto qui tra quelli che provocano il tumore, no? L'hanno fatto sparire il libro. E a Di Bella che ti dice curiamo in una maniera che non sia la chemio, lo mettono all'agonia. All'indice. Allora pochi e talmente inutili che dovevano prima di tutto sapere quello che dovevano fare, capito? Allora, nessuno mai insegna deontologia professionale, anche oggi. Eppure quanto male la sua non conoscenza o la non adempienza o le sue infrazioni recano alla dignità professionale. Questo è uno dei più grandi maestri del Novecento. E come è facile e frequente di constatare che chi vi contraviene è poi a sua volta presto poi colpito dalle stesse sue armi avvelenate, mentre con la dirittura, la probità, la correttezza della nostra condotta e senso di dovere dovremmo pur riuscire a cancellare nelle parole, ma ancor più nello spirito, nei fatti, l'antico detto homo homini lupus, medicus medico lupissimus. Ognuno di noi deve certo possedere qualità tecniche quali si esigono in chi ha in definitiva esercizio di vita e di morte sui suoi malati, ma anche deve avere eminenti qualità morali, poiché la nostra professione è in dignità professionale superiore a tutte, da che noi più che tutti abbiamo il dolce privilegio di poter dare i frutti del nostro pensiero anche i fiori del nostro spirito e oltre che il nostro sapere, il nostro cuore, che deve essere largo di comprensione e di indulgenza per i mali fisici e morali degli uomini. Spiega la citazione in latino, sempre dovendosi ricordare che in ogni malato fisico vi sono più o meno percettibili ripercussioni psichiche. Questo lo scriveva nel 1936. Poi di lì passiamo a un'altra cosa che vedrete, vedrete quello che vi leggerò. Omo homini lupus, l'uomo è come un lupo nei confronti degli altri uomini, una visione terribile, anglosassone nella natura. Ma è realistica, assolutamente realistica. Sì, è realistica, però concettualmente è anglosassone, perché chi l'ha elaborata era un inglese e che ha indotto per molto tempo a pensare i rapporti umani non in un'ottica di francescano. Che era Moro? No, 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 Moro era il tucatro, era Bacone. Ah, Bacone, sì, sì, scusa, Bacone. Ma a considerare sempre gli altri come esclusivamente degli avversari. Poi dice medicus, medico lupissimus, cioè se l'uomo è lupo per l'uomo, un medico per l'altro medico è peggio che il lupo. E con questo abbiamo fermato questa cosa. Ma per far vedere subito cosa si intende equivocare sulle questioni e giocare falsamente sugli equivoci, questa è una piccola enciclopedia che veniva pubblicata negli anni 50-60, Omnia Medica, dove ci si spiega in maniera molto chiara con quale facilità ci si può sbagliare in medicina. Questa è seconda edizione, redatta da Augusto Lantanzi e qui ci sono tutta una serie di cose che è inutile che sto a dire, però quello che mi interessa è di far vedere ai nostri amici che subiscono passivamente le cose, anche ai nostri amici medici. attenzione, allora voi sapete che per decenni i medici continuano anche adesso a dare farmaci coronaro dilatatori per quelli che sono a rischio di infarto, anche oggi, perché dilaterebbero le coronarie. Questo è un libro che è stato stampato nel 1963, io già lavoravo, quindi questo è roba che io avevo perché ci lavoravo. Tutti i farmaci coronaro dilatatori, sia quelli ad azione immediata, ma fugace, che rappresentano il rimedio elettivo degli attacchi di angina pectoris, sia quelli ad azione meno pronta, ma prolungata, non solo non hanno alcuna efficacia antidolorifica nell'infarto, ma sono assolutamente da sconsigliare, perché provocando una cospicua dilatazione attiva delle coronarie possono aggravare lo squilibrio circolatorio che si è stabilito nel miocardio in seguito all'occlusione coronarica. Io devo dire di più, ma ci vuole tanto a capirlo, ma se tu hai un problema, allora questi farmaci vasodilatatori hanno continuato a darli a man salva, fino a che non sono arrivati i beta bloccanti, sono i beta bloccanti, siccome nella loro azione sono vasocostrittori, questi hanno ingenerato un fenomeno di terrore per cui per un sacco d'anni in Italia non sono mai stati prescritti, mentre l'efficacia del prodotto è ampiamente dimostrata da tutta una serie di cose che è inutile che devo spiegare qui, ma insomma le cose stanno così. Allora, ma se nei 73 ti dicono che sono inutili, ecco tu perché continui a prescrivere, hai prescritto centinaia di milioni di pezzi, anno dopo anno tutti quelli che avevano infarto, poi dice poverino, dopo amorevoli cure morti infarto, te credo, gli davano dei medicinali che aggravavano la situazione. E veniamo al tumore. Allora, siccome questi personaggi qua, siccome questi... 30. Siamo a 30. Ah, va bene. Siccome questi personaggi qua ce l'hanno con Di Bella, allora noi facciamo un test di un grande scrittore che è questo, psicologo, sociologo, studioso che presumo adesso deve essere morto, che scrive degli articoli importantissimi. questa è una raccolta dei suoi articoli. Stiamo ben attenti, perché questi sono dati sperimentali, sono dati statistici, no? Che quelli che prescrivono a Mansalva, ad occhi chiusi, al primo manifestazione di tumore, no? La chemioterapia, non prendono per loro ignoranza sostanziale. Attenti, eh? E poi avremo da aggiungere delle cose. Per parte nostra possiamo segnalare qualche interessante dato a conforto delle tesi reichiane, questo si riferisce a Reich. L'annuario americano Psychological Abstracts del 1960 riportava ad esempio un'inchiesta interessante condotta da un'equipe di psicologi e sociologi su un campione casuale di donne cancerose degli Stati Uniti, confrontato con un campione di controllo di donne sane. Da tale inchiesta qui sono dati su migliaia di casi analizzati, passati completamente inosservati, anche se scritti su giornali di larga diffusione da questo Demarchi che è veramente stato un grande studioso di psicologia sociale. Da queste inchieste è risultato che le pazienti cancerose avevano tutte avuto una vita sessuale nettamente più repressa e frustrata e presentavano in media una personalità nettamente più inibita delle donne sane. Ma che cosa dobbiamo dire di più? imbecilli di prescrittori, ma volete andare a chiedere qual è la vita, qual è la storia, quali sono i progressi di quella persona? Le abitudini comportamentali. Del resto, da tempo la letteratura psichiatrica ha segnalato l'esistenza di frequenti coincidenze tra la malattia mentale e quella neoplastica. Io lo so perché ho avuto a che fare con degli studi che sono stati fatti anche qui in Cattolica per cui praticamente è confermato. Non meno interessante ci è sembrata l'inchiesta condotta da un'altra echipe di cancerologi americani sulla frequenza del cancro delle suore. I risultati delle ricerche che ha analizzato le cause di morte di 116.000 suore. Non tre, non cinque, come i risultati che portano sti imbecilli che fanno la chemioterapia qualche volta che gli arriva in positivo. Suore cattolico americane sono stati comunicati dal professor J.T. Nixon all'ultimo congresso della società americana per la lotta contro il cancro, marzo 1964. Perché studiosi di cancro italiani che prescrivete la chemioterapia, non andate a leggervi questi dati statistici, ignoranti che siete. E mi sembrano impressionanti, non solo le suore sono risultate più esposte alla maggior parte delle forme neoplastiche, ma tale maggiore mobilità tocca i suoi massimi vertici proprio nelle forme cancerose degli organi femminili. Vagina, utero, mammelle. Unica apparente eccezione sembra essere la minore frequenza del cancro della cervice, ma ciò potrebbe essere messo facilmente in relazione con i traumi e le irritazioni cui la cervice delle donne coniugate è sottoposta, in conseguenza degli interventi ginecologici e dei loro postumi riscontraboli pressoché in ogni donna delle società occidentali. L'inchiesta americana del resto conferma solo ciò che chiunque consulti l'annuario italiano di statistica, ma voi cari oncologi italiani non sapete nemmeno cos'è la statistica, può osservare direttamente le donne nubili dai 25 ai 35 anni, e cioè la classe d'età in cui la frustrazione sessuale tocca ovviamente i suoi massimi vertici, presentano un livello di cancerosità degli organi femminili nettamente superiore a quello delle loro coetanee coniugate. C'è qualcosa da giuro, noi abbiamo una tale cultura psicologica, psicosomatica che per noi è normale, ma è possibile che voi materialisti terribili che vedete soltanto i farmaci che prescrivete non capite queste cose? Per quanto concerne la canceroginità maschile, questa è interessantissima, vorrei far notare che due delle sedi più frequenti del cancro maschile, il retto e la laringe, sono chiaramente collegate all'artificiosa imposizione di modelli virili, di comportamenti inculcati dall'educazione tradizionale, come da ogni educazione patriarcale, ai bambini e agli adulti maschi. La sistematica repressione della paura e del pianto a cui vengono educati i bambini e i giovani, instaurando un atteggiamento cronicamente spastico della gola e del retto, può indubbiamente contribuire ad accentuare pericolosamente la nocia di quelle zone. Io vorrei fare qui un'eccezione per gli omosessuali, gli omosessuali quell'altro organo ce l'hanno un po' dilatato, però ci pensa l'AIDS per loro e qui facciamo il pareggio. Per quanto sia evidente l'interesse delle teorie raichiane sull'origine del cancro, il massimo, tanto Raich lo sappiamo, l'hanno messo in galera e lì è morto. Fai a me dire in giro quello che diceva Raich, con tutto che è la stima che si è portato dietro. Dopo vent'anni per la prima volta adesso ci sarà un congresso sull'orgonomia di Wilhelm Raich. Il massimo, anche se inconsapevole, contributo all'estensione dell'eziologia simpatico-tonica e quindi emozionale, al di là della sfera delle malattie funzionali, fino a coprire tutto il campo della patologia, comprese le infezioni batteriche, è venuto, a mio paere, da un illustre medico costituzionalista russo, Aleksandr Salmanov, che fu a suo tempo medico di Lenin e si stabilì poi a Parigi, dove è morto solo pochi anni fa. Un allievo italiano di Salmanov, il dottor Mario Mancini, ha curato per l'editore Bonpiani nel 1963 la traduzione di una delle principali opere di Salmanov, Segreti e saggezza del corpo. E allora che cosa fa Giorgetto tuo? Ti va a prendere l'opera di Salmanov. Salmanov aveva notato una cosa importantissima, valla a dire questa gente, l'importanza della circolazione periferica. Se voi, cosa volete andare a guardare cardiologi se una persona ha dei guai della circolazione? Ma l'importanza della circolazione è l'irrorazione periferica compresa anche il miocardio, che è periferia rispetto alla funzionalità del cuore come pompa. Quindi sono i capillari che portano il sangue ai tessuti, che determinano il funzionamento dei tessuti e del cuore, che è una pompa riflessa, non una pompa originaria. Ti immagini, Salmanov ha creato una scuola a Parigi, morto lui, morta la scuola. Però sentite che cosa c'è scritto qui. Lo stesso accade nella nascita e nell'invasione del tumore maligno, questo lo scrive Salmanov. Mettete a posto il cervello se volete agire, logicamente, contro l'invasione tumorale. Se si tiene presente che lo spessore delle membrane dei capillari sanguigni nel cervello non supera il micron, un millesimo di millimetro, se si tiene presente che la barriera tra la vita e la morte è estremamente fragile, se si calcola l'enorme numero di shock emotivi che subiamo quotidianamente durante tutta la vita... È un miracolo che non moriamo dieci volte al giorno. Se riflettiamo sul grado di resistenza di questa membrana che rovescia tutte le nostre conoscenze fisiochimiche, fisiochimiche, e tu gli vai a dare la chemioterapia a questa gente che ha questi problemi. Si arriva a questa conclusione, per liberare l'organismo da un tumore maligno bisogna prima di tutto liberare il nostro cervello dalle concezioni false sulla natura del tumore. È stato stampato anche in Italia nel 1935-36, ma noi che cosa vogliamo dire? Stai maschi, calzoni, delinquenti. Ma infatti Simoncini dice che è un fungo. Ma lui ha fatto questa traslazione, lui ha notato che una seppur minima variazione del pH del sangue determina delle modificazioni. Ma è lo stesso che dice a Carmelo. Esattamente, è vero, è vero. Simoncini oltretutto è anche un fisico, quindi è laureato in fisica, cosa che non sono il 99,9% dei medici che lo accusano, che di fisica non sanno assolutamente nulla. Ed occorre soprattutto dimenticare il tumore se esso non è ulcerato e non comprime pericolosamente gli organi vicini. Lo devi dimenticare. Io ho l'esempio di un mio amico al quale, ti hanno detto, lascia correre. Se tu non è da tarda, non si sviluppa, rimane lì e come racciste. È naturale. Tranquilli. È naturale. Oh, Salmano, i più grandi geni del Novecento. Bisogna restituire al cervello la sua possibilità di controllo e di regolazione e noi non siamo disarmati. Quando l'uomo esala l'ultimo suo respiro, le unghie e i capelli continuano a crescere per 48-60 ore. Le cellule che costituiscono i follicoli piliferi del derma continuano a eseguire gli ultimi comandi del cervello già spento. E questi mi dicono che c'è la morte cerebrale? Io ho una persona in cui funzionano tutti gli organi e che dovete portare via gli organi perché dovete speculare, fare i soldi sui trapianti di ombra, ma scalzoni delinquenti. Come tutte le cose viventi, anche gli organi hanno la memoria periferica integrata nella cellula. Bravissimo. Capito? Come i soldati abbandonati, esse presentano le loro armi alla spoglia del capo. Come sono toccanti come venti la vita e la morte dell'uomo quando vengono guardate con religioso stupore e quanto bestiali, stupidi e volgari sono gli esseri che dilapidano con indifferenza e negligenza questo tesoro inestimabile. Il loro corpo animato, che potrebbe essere felice e che essi invece, malvivendo, trascinano nel fango purulento. Tutte le parti dell'organismo sono disseminate di nidi di cellule appena nate. E tu, mascalzone, mi hai inventato la morte cerebrale, mascalzone delinquente, per portare via il cuore alle persone. O la morte chimica. O la morte chimica. I centri germinativi delle banali vegetazioni, adenoidee, lo strato germinativo del derma, il rinnovamento continuo dei globuli sanguigni, tutti gli eritrociti sono sostituiti dopo 42 giorni, tutti gli eritrociti in 4 giorni. La vita dell'infocita non supera le 4 ore, ne sono un esempio. Questo è il vero pullulare dell'esistenza e della vita. Quando la cultura classica ci dice che la vita è il tutto, il tutto coincide con la vita, perché noi siamo per la vita, perché la vita ci sarà sempre. Quando un certo cristianesimo dice di Cristo... L'acido DNA di ribonucleico, di sossi ribonucleico, è nelle rocce, addirittura nelle asteroidi e quindi prima o poi, come trova il brodo di cultura adatto, si riproduce. E quindi, tutti gli eritrociti in 4 giorni nella vita dell'infocita non supera 8 ore. Nessun esempio. Le numerose guarigioni di esiti di emorragia cerebrale, da noi osservati, dopo l'applicazione sistematica dei bagni ipertermici, fanno vacillare il dogma della insostituibilità dei neuroni cerebrali e spinali. Questo che ha sostenuto anche la Levi Montalcini, la quale ovviamente ha preso ispirazione... Ha preso il Nobel, ha preso il Nobel con quello che ha studiato qua. Il punto di Salmanoff. Insomma, vabbè, ci aveva ragione. Ne ha fatte di tante, però dobbiamo dire che da questo punto di vista aveva perfettamente ragione. Se si riflette con una visione libera da preconcetti libreschi e dogmatici, sui grandi fenomeni della vita si arriva a questa conclusione. L'uomo, allevato senza costrizioni, educato senza ingombri inutili per il suo cervello, liberato dalle oppressioni familiari, sociali, campanilistiche e disintossicato dalle menzogne politiche ecclesiastiche, pseudoscientifiche, potrebbe restare giovane e mantenere la sua attività fino a 90 anni. Adesso l'hanno superato, però lui lo prevedeva. L'invecchiamento progressivo è una malattia sociale, coltivata e mantenuta dallo Stato e dalla scienza medica castrata. e ci andiamo a leggere un'altra cosa. Lo stato spugnoso degli organi. La spugna rappresenta lo stato più elementare degli animali invertebrati. Priva di tessuto nervoso e di organi differenziati, essa è provvista di un orificio anale. Il corpo della spugna è un piccolo sacco allungato, eccetera. Nel corpo della spugna si trovano di tipo, la spugna rappresenta forse uno dei primi abbozzi del piano creatore nel campo dell'evoluzione finalista. È bello questa idea e questo concetto di spugna e vorrei leggere un'altra frase che ho sottolineato. Anche il cervello è una spugna. Certo, è ovvio, è lui la dice. È automatico. La cultura della spugna non è la cultura della chemioterapia, mi pare evidente, no? È esattamente il contrario. L'assorbimento. La clinica deve essere liberata dal dominio dell'industria chimica che avvelena, con la sua rumorosa propaganda e le sue pubblicazioni, i resti del pensiero medico. L'industria chimica deve servire. La sua dittatura è narcotizzante e demagogica deve essere spezzata. Ma ha scritto nel 1930 C. Domanda. Se nell'agricoltura e nel giardinaggio fossero stati usati concime a migliaia, insetticidi a centinaia, cosa che avviene adesso, all'epoca non c'era. Se si fossero praticati a centinaia e più strani innesti, non avrebbe tutto ciò fatto perire l'una e l'altra? Risposta, senza dubbio. L'agricoltura e il giardinaggio sarebbero diventati impossibili. È quello che sta succedendo oggi e per fortuna c'è anche tanta gente che sta reagendo cercando di salvare i semi, cercando di ritrovare tutti i semi. Leggevo proprio stamattina in una rivista che delle mele sono rimasti solo 4 di 70.000 tipi di mele, se non sono rimasti solo 4 che vengono coltivati. Di 70.000. Domanda. Dato che l'organismo umano è una unità intera e indivisibile, non dovrebbe forse la terapia razionale essere anch'essa una e indivisibile con piccole varianti adeguate alla diversa manifestazione morbosa, la risposta alla terapia deve essere una e indivisibile. Per cui quando tu mi vieni che c'è il cancro, voglio andare a vedere che cos'è che viene coinvolto, invece di dargli la chemioterapia e poi andare a misurare mese dopo mese se quel specifico tumore lì è andato via. Che cosa hai fatto nel contempo? Che danni hai creato in tutto il resto dell'organismo per colpire quella piccola cellula? Chi ti ha detto che quella cellula l'avrebbe fatto male? Ignorante delinquente pagato dall'industria farmaceutica.